Io Saragni abbiamo avuto una settimana molto difficile, quanto è importante questa vittoria? È fondamentale proprio perché abbiamo fatto una settimana piena di problemi, malattie, non siamo riusciti ad adannarci sempre assieme, però abbiamo fatto una partita maschia, giocata bene, passandoci a ballo. Nel momento decisivo, quando stava rientrando Brescia, sono arrivati i due canetti e anche alla fine quella bomba sulla linea che ha ricacciato indietro la paura del ritorno in campo. Abbiamo fatto 97 punti, quindi tutti hanno fatto canestri importanti, libri importanti.